Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Montelupo-Fiorentino, rallentamenti in direzione mare tra Ginestra, Fiorentina e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla 11. Segnalato poi un chilometro di coda per lavori in direzione mare tra Santa Croce e Montopoli. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!